Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il rapper Fedez è al centro delle polemiche per alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram, che ritraggono il suo cane Silvio in compagnia di ragazze in bikini. Queste immagini hanno scatenato una pioggia di commenti da parte degli utenti, che hanno interpretato il gesto come una possibile frecciatina alla ex moglie Chiara Ferragni. Alcuni follower hanno addirittura visto un messaggio provocatorio o irrispettoso verso l'imprenditrice digitale. La domanda che molti si pongono è se Fedez abbia voluto lanciare un messaggio a Chiara Ferragni attraverso queste foto. Nonostante sembrino innocue, il contesto e la scelta delle protagoniste in bikini hanno sollevato sospetti su un possibile intento provocatorio. Fedez non ha ancora chiarito le sue intenzioni, lasciando spazio a speculazioni e discussioni tra i loro.